Musica Sarà piazzato domattina il primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera destinato a sostituire Ponte Morandi. La cerimonia dovrebbe prendere via intorno alle 9.30 alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli. L'impalcato del ponte dovrà essere sollevato da gigantesche gru in quanto si tratta di una struttura lunga 50 metri, alta quasi 5, che dovrà essere posizionata a 45 metri di altezza sulle pile di cemento armato appena costruite dal gruppo di imprese incaricato della realizzazione del nuovo ponte. Sembra quindi che il cronoprogramma sia rispettato in pieno con lavori che stanno procedendo in modo celere e fino a questo momento senza particolari intoppi nonostante le dimensioni del cantiere e delle opere. Alla cerimonia di domattina saranno presenti anche il Sinaco di Genova e Commissario per la Ricostruzione Marco Bucci, il Presidente della Regione Giovanni Totti e l'architetto Renzo Piano, che ha donato alla città della Lanterna il progetto di massima del nuovo viadotto. Sono 45 gli esportelli di Banca Carige sul territorio nazionale Ligure in particolare che entro la fine dell'anno chiuderanno i battenti a quanto previsto nel piano di razionalizzazione legato al salvataggio della Banca Ligure. Nel territorio della città metropolitana di Genova in programma la chiusura di ben 11 agenzie, mentre altre 6 saranno chiuse in provincia di Savona. In provincia d'Imperia chiuderà invece soltanto la filiale di Riva Ligure. Al taglio delle filiali corrisponde anche un taglio di 150 dipendenti, che comunque verrà attuato su base volontaria, approfittando soprattutto delle opportunità di pensionamenti offerti dalla cosiddetta quota 100. I vertici di Banca Carige hanno assicurato che la presenza sul mercato della Banca Ligure resterà comunque importante con il mantenimento di punti di riferimento in ogni regione. Certo è che inevitabilmente il contraccolpo si farà sentire in ogni caso, a cominciare dalla diminuzione degli sportelli Bancomat fondamentali per prelievi e operazioni da parte dei correntisti. A seguito poi dell'ordinanza che è già stata firmata e pubblicata, che limita l'accesso a una porzione del centro a determinati motoveicoli e autoveicoli che sono indicati nell'ordinanza, oggi lanciamo un bando e degli incentivi per tutti coloro che andranno a rottamare i ciclomotori e motocicli di categoria emissiva inferiore a Euro 1 e ciclomotori e motocicli a motore termico a due tempi di categoria inferiore uguale a Euro 1. Queste sono le due tipologie. Il Comune di Genova insieme alla regione ha portato avanti questo bando, avremo fondi fino ad arrivare a 500.000 euro e daremo 400 euro ad ogni cittadino che andrà a rottamare il suo ciclomotore e andrà a acquistare o uno scooter elettrico o uno scooter a benzina Euro 4 e successivi, moto elettriche, moto a benzina Euro 4 e successivi e biciclette a pedalata assistita. È un segnale che vogliamo dare, abbiamo voluto affiancare questa ordinanza con degli incentivi importanti, lo avevamo già fatto due anni fa con gli scooter elettrici e le biciclette assistite con 257.000 euro che sono andati esauriti in poco tempo e in particolare vogliamo precisare che potranno godere di questo incentivo chi ha rottamato e acquistato un mezzo a decorrere dal 1 settembre, quindi dal 1 settembre dell'anno in corso. Dal 1 novembre sarà possibile invece presentare le domande. Sul sito del Comune comunque sarà possibile recuperare e reperire tutte le informazioni. L'ordinanza è stata pensata garantendo a tutti la possibilità di transitare nella città, è possibile percorrere per i mezzi che possono la sopraelevata, è possibile percorrere Corso degli Osafi, Via Gramsci fino ad arrivare al WTC, è possibile percorrere tutta Circonvalazione a Monte, quindi chi arriva ad esempio dalla Val Bisagno, faccio un esempio, può prendere via Montaldo, fare Piazza Manin e poi fare tutta la Circonvalazione a Monte. Quindi è difficile dire quanti residenti all'interno di questa minima porzione di territorio vengono coinvolti. Naturalmente ci saranno coloro che magari normalmente utilizzavano il mezzo, ma in questo caso possono usufruire dell'incentivo della rotamazione e degli incentivi statali che si sommano, oppure possono lasciare il mezzo in una zona a perimetro della zona interessata, che comunque sono zone che poi permettono un accesso anche pedonale non lungo al centro della città. Da questo divieto sono escluse le moto storiche? Da questo divieto, giustamente, come ricorda, sono esclusi tutti i veicoli storici, quelli iscritti ai pubblici registri, faccio un esempio classico, la Vespa, una Vespa iscritta a un registro storico, visto che ha un suo valore storico e culturale, si è ritenuta di esentarla dal divieto. Certo è che noi dobbiamo dare un segnale, certo è che questa ordinanza segue una legge regionale e segue comunque anche un intervento da parte della Commissione europea e quindi in qualche maniera non c'era assolutamente nessuna possibilità di non procedere con questa ordinanza, ma al di là di questo noi vogliamo una città che comunque sia più vivibile, una città che abbia mezzi che non siano inquinanti. Intendiamo procedere non soltanto con questa ordinanza, noi vogliamo andare avanti anche intervenendo su altre fonti di inquinamento che naturalmente non è possibile individuare solo e esclusivamente nei ciclomotori. Le fonti di inquinamento in questa città derivano dal riscaldamento, derivano dal porto, quindi è un discorso generale. Questa è un'ordinanza specifica, ma vogliamo portare avanti un tavolo di confronto con l'autorità portuale, con gli armatori, anche per cercare di gestire al meglio la presenza delle navi all'interno del porto. Questo provvedimento contiene anche una norma antifurbetti, con dei controlli del comune a campione. Sì, come sempre, così come bene ha funzionato il bando di due anni or sono, anche questo bando prevede dei controlli a campione successivi per verificare che uno non si sia rivenduto da modo o comunque abbia in qualche maniera violato quello che sono il bando e il capitolato del bando. Con Piero Pelassa, sindaco di Mendatica, alla Festa della Transumanza, anche quest'anno un grande successo. Sì, direi di sì, questi primi due giorni sono stati molto intensi, molto belli, molto partecipati, soprattutto oggi c'è stata veramente tanta gente, il percorso del Paglio è stato un po' cambiato, abbiamo messo un po' delle novità, si è costruito anche un mulino per cambiare un pochino la situazione. È stata una giornata molto bella, anche perché comunque c'è stata anche la presenza del Presidente della Regione Liguria Totti, che ringrazio, della Sessore Scaiola, che è la Regione comunque sempre vicina ai nostri territori. Cosa rappresenta per voi la presenza della Regione all'edizione di quest'anno della vostra festa? La presenza della Regione è una cosa molto importante, la presenza e la vicinanza del territorio, perché comunque il Presidente è stato contento di venire, si è trovato bene, insomma anche gli assessori sono sempre presenti e dopo l'alluvione veramente, bisogna dire grazie alla Regione perché sono stati veramente vicini a questo territorio, hanno investito molto, pensate che comunque tra la strada di Monesi e il ponte del Bavera finora la Regione ha già messo quasi 2 milioni e mezzo di euro su questo nostro territorio, quindi vuol dire che ci credono e c'è attenzione, perché veramente il nostro territorio è un volano economico che mancando quella strada comunque era andato discretamente in crisi. Con Alessandro Lanteri, Presidente della Proloco di Mendatica, anche quest'anno la Festa della Transumanza direi un grande successo. Un grandissimo successo, poi io sono molto contento che abbia vinto poi la Rocca, sono legato a quella malga per ragioni familiari e per i colori rosso-blu del suo stemma, che dire, vista la fine della saga del Trono di Spade, penso che una sfida tra sei malghe può degnamente sostituirla, quindi per gli anni prossimi ci aspettiamo di riempire le prime serate e i cuori di tutti gli spettatori di Imperia TV, come e più le saghe fantasy, perché è giusto così. La Capra ancora una volta ha vinto su tutto? La Capra ha vinto su tutto, ma ha anche dimostrato che l'importante è partecipare. Anche le Capre che hanno voluto correre in maniera meno forte hanno mostrato comunque un grande istinto di libertà e questo ci piace molto. Per la prima volta al Palio delle Capre di Mendatica, anche il Presidente della Regione Liguria Giovanni Totti. Si è divertito il Presidente? Sono divertito molto, uno spettacolo straordinario, un'intera comunità che ha ricostruito i modi, i costumi, le abitudini di un tempo, però è una cosa da prendere molto seriamente, anche se col sorriso, perché coltivare le proprie tradizioni, avere rispetto per la nostra storia, vuol dire anche costruire un pezzo del nostro futuro. Questa è una valle su cui dobbiamo investire molto, che ha possibilità di bellezza naturalistica, ambientale straordinaria, l'outdoor è uno dei motivi del turismo su cui stiamo spingendo di più in questa regione. Credo che la tradizione, l'enogastronomia che abbiamo appena provato con tutti gli straordinari prodotti bianchi di queste terre, i lavori che stiamo facendo per riaprire pezzi di questo territorio come Monesi sono il segno della volontà di investire nell'entroterra perché il turismo può fare la differenza davvero, qua più ancora che sulla costa. È un territorio che in effetti ha sofferto tanto, ma adesso forse comincia a vedersi la luce in fondo al tunnel? Beh, l'entroterra Ligure è un territorio difficile, è per questo che noi stiamo investendo su Monesi, è per questo perché stiamo lanciando un grande piano strade da 5 milioni di euro in tutta la regione, proprio per quei microinterventi che talvolta sono così fastidiosi o addirittura nocivi a piccole comunità dell'entroterra, daremo le risorse ai sindaci per poter intervenire, però bisogna anche dire che l'entroterra Ligure integrato con la nostra magnifica costa è quel valore aggiunto del nostro territorio. Oggi in una giornata, in pochi chilometri, ho attraversato la Val Bormida con la fiera del tartufo di millesimo, che è una delle nostre eccellenze, sono arrivato qua dove abbiamo fatto onore alle tradizioni e al cibo di un tempo e tra pochi più di 20 chilometri neanche saremo di nuovo sulla costa davanti al nostro mare splendido. Credo che l'integrazione di cultura, di conoscenza, di capacità, di enogastronomia e di bellezza del territorio sia un mix unico della nostra regione. Con l'assessore regionale Marco Scaiola, a Mendatica per la festa della transumanza, le nostre radici sono sempre importanti. Assolutamente, è importante. Questa è una festa meravigliosa, come tante altre che si svolgono ogni anno nel nostro entroterra, particolarmente legato a Mendatica, dove ho passato anni meravigliosi dalla mia infanzia, un territorio che noi stiamo aiutando, perché ricordiamo tutti la frana della strada del 2016 di collegamento con Monesi, qua sopra, e che ha messo in ginocchio un territorio che insieme all'aiuto dei sindaci, insieme all'importante contributo che abbiamo dato come regione Liguria, sta rialzando la testa. Presto si riaprirà il collegamento e poi ci sarà un piano per lo sviluppo di questo territorio, perché tanta gente viene a Mendatica, come in tutto l'entroterra, l'entroterra non deve mai essere dimenticato, noi non lo dimentichiamo, importanti sono i finanziamenti che abbiamo dato e che continueremo a dare e queste tradizioni, queste feste, riescono ancora ad unire di più il territorio, quindi benvengano le feste come la transumanza. E poi anche quest'anno a Mendatica, tanti bimbi, tanti giovani? Bellissimo, questa è la cosa più bella, lo diceva un amico prima, io ci venivo da bambino con i miei genitori, con mio nonno, e adesso ci vengo con i miei figli, quindi credo che si portino avanti tradizioni, i valori che assolutamente dobbiamo difendere con tenace e gelosia perché non possiamo perderli. Insieme ai vincitori dell'edizione 2019 delle Palio delle Capre, Niccolò e Sebastiano, ragazzi, complimenti! Grazie mille! Chi è stato il più bravo di voi due? Dai, siamo una squadra, tutti e due! No, diciamo la verità, la più brava è stata la Capretta! Assolutamente sì, è stata collaborativa al massimo, prima e seconda Manche. Qual è stato il segreto per convincere così bene la Capretta? Ma purtroppo va a fortuna, quest'anno ci è andata bene, abbiamo preso la Capretta sprint. Quando avete capito che la vittoria era la vostra portata? Dopo il secondo bicchiere di Ormeasco ieri sera. Avete stabilito il nuovo record mondiale nella storia del Palio delle Capre, 1 e 11, il nuovo record il prossimo anno? Saremo sempre qua a cercare di difenderlo. Assolutamente. Ormai squadra vincente? Squadra vincente non si cambia. E quindi anche con la Capretta Francesca? Assolutamente sì, ormai l'abbiamo capito qual è, sarà la stessa l'anno prossimo. Marchiata, l'abbiamo marchiata. E adesso come si festeggia? Come ieri sera. Ormeasco. San Girolamo. Nato a Stridone in Dalmazia nel 347 da una famiglia cristiana, rivelò fin da piccolo una grande intelligenza. Studiò retorica a Roma e, sebbene cristiano, ebbe una gioventù piuttosto dissipata. Ad Aquileia iniziò la vita monastica, ma poi decise di andare in Oriente, dove apprese il greco e l'ebraico. Papa Adamaso lo incaricò di tradurre in latino i testi originali della Bibbia. Da allora, la sua volgata costituisce il testo ufficiale della Chiesa. È patrono degli eruditi, degli studiosi, dei biblisti, degli umanisti cattolici, degli archeologi e dei miubi. L'aver tradotto e revisionato la Bibbia in latino gli è valso il patronato dei traduttori. Quattro su cinque delle regioni con il tasso di occupazione più basso in Europa sono nel sud Italia, con meno della metà delle persone tra i 20 e i 64 anni di età, che ha un lavoro a fronte del 73,1% medio in Unione Europea. I dati Eurostat riferiti al 2018 vedono guidare questa triste classifica, al contrario la Sicilia con il 44,1% di persone con lavoro, la Campania con il 45,3%, la Calabria con il 45,6% e la Puglia con il 49,4%. I comuni italiani superano gli obiettivi europei per il recupero e il riciclo dei rifiuti. È quanto emerso dall'ottavo rapporto curato da Lanci, associazione nazionale che rappresenta i comuni italiani, e il CONAI, ovvero il Consorzio Nazionale degli Imballaggi a cui aderiscono aziende produttrici di acciaio, carta, alluminio, legno, plastica e vetro. Negli ultimi anni la partnership Franci e CONAI ha stimolato la crescita sugli obiettivi prefissati. Rispetto al 2008, per esempio, si è registrato un più 18% sul recupero dei rifiuti e un più 12,5% sul riciclaggio. Ciò significa che nei comuni italiani che hanno stipulato accordi con i consorzi rappresentati dal CONAI, la media del riciclo è del 67,5%. Alla luce di questi risultati, Anci e CONAI stanno studiando la firma di un nuovo accordo quadro che permetta di coinvolgere sempre più comuni e superi le differenze esistenti fra centro-nord e sud. Pantaloni, camicie e maglioni non è la classifica dei capi di abbigliamento più venduti nei negozi, ma piuttosto di quelli più rubati, almeno secondo i numeri della ricerca Retail Security in Europe Going Beyond Shrinkage, realizzata da Crementech, spin-off dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con il supporto di Checkpoint System. L'indagine ha coinvolto venditori di 11 paesi europei, evidenziando come le differenze di inventario nel 2017 ammontano a circa l'1,5% del fatturato. Soldi alla mano le perdite arrivano a toccare i 375 milioni che sommati alle cifre dei settori che si occupano di scarpe ed accessori fanno segnare la cifra di 464 milioni di euro. Il settore dell'abbigliamento risulta anche essere il comparto maggiormente soggetto ai cosiddetti furti interni. In Europa i retailer spendono in media lo 0,62% del fatturato in misure di sicurezza e l'abbigliamento e tra i settori che investono più risorse utilizzando lo 0,7% del proprio fatturato in tecnologie e mezzi per la protezione della merce. Google ha creato e diffuso un database di video fasulli per contrastare il fenomeno del deepfake, cioè immagini di personaggi famosi manipolati per far fare o far dire cose inconsuete o false. Questa tecnica, nata nel 2017 nell'ambito di un esperimento dell'Università di Washington, può essere utilizzata per vari scopi che vanno dal veicolare messaggi fuorvianti a compie attività criminali come in un episodio avvenuto in Germania dove un gruppo di cybercriminali ha rubato 250.000 dollari in un'azienda sfruttando la voce dell'amministratore delegato. Il database di Google si basa sulla stessa tecnologia utilizzata dai software che creano i deepfake videos e contiene diversi filmati di questo tipo girate allo scopo di allenare meccanismi di riconoscimento. Il Milan perde in casa contro la Fiorentina. Questo è il commento del tecnico rosso-nero Marco Giampaolo. No, ho detto che la squadra ha giocato una partita come se non fosse mai stata allenata. Che è diverso. Non c'era nessun tipo di avvisaglia perché tre giorni fa, al di là del risultato che è stato negativo, la squadra aveva saputo giocare la partita in un certo modo. Con intensità, con personalità, con voglia di vincere che poi l'abbiamo persa, è un altro discorso, ma gli atteggiamenti erano tutti positivi due giorni fa. Questa sera la squadra ha avuto difficoltà. Ha avuto difficoltà perché sapeva di dover vincere per forza e questo forse ha pesato. Ha pesato nei muscoli, ha pesato nella testa. Abbiamo sbagliato tanto tecnicamente. Importante vittoria della Lazio che batte il Genoa in conferenza stampa, le parole del tecnico bianco celeste Simone Inzaghi. Sì, abbiamo fatto un'ottima gara, compatti, sempre lucidi, non ci siamo mai disuniti. Abbiamo fatto un'ottima gara, l'abbiamo vinta meritatamente e poi insomma con Immobile avevo già detto dopo il Parma che era già tutto a posto, quindi se ne è parlato come prevedevo e pensavo che fosse. Poi era già tutto a posto e siamo contenti, ma già da adesso dobbiamo pensare che giovedì ce ne sarà un'altra, domenica ce ne sarà un'altra. Sappiamo che è un tour de force, però cerchiamo di affrontarlo nel migliore dei modi. Vittoria sofferta per il Napoli che batte 2-1 il Brescia, questo il commento del tecnico partenopeo Carlo Ancelotti. C'è invece la sensazione dell'opinione pubblica che quasi si spinga per dire che c'è solo l'Inter a dar fastidio alla Juventus, invece il Napoli al di là del mercoledì sfortunato è lì. Meglio non dirlo oppure... No, meglio non dirlo, meglio pensare a quello che dobbiamo fare meglio, meglio concentrarci su quello che... sugli impegni che abbiamo, mercoledì è una partita fondamentale per il nostro gruppo, visto che l'abbiamo iniziata bene, e... perciò... credo che sia giusto così, l'Inter ha iniziato il campionato in maniera straordinaria, credo che è giusto che abbia, diciamo... che è lucida la ribalta. Per oltre metà gara la Ferrari ha carezzato la vittoria, convinta che ci volesse ancora poco per portarla a casa, invece un guasto alla macchina di Sebastian Vettel, mentre era in testa durante il 28esimo giro, ha spezzato l'incantesimo e Lewis Hamilton è andato a trionfare in Russia. Dopo le grandi qualifiche del sabato, chiuse con la pole position di Charles Leclerc, la rossa, velocissima anche in gara, torna solamente con il terzo posto del Monegasco a casa, che, dal gradino più basso del podio, vede la doppietta Mercedes. Per Lewis Hamilton è la quarta vittoria a Sochi, la sesta di fila per la scuderia tedesca su questo tracciato. Quarto posto finale per Max Verstappen della Red Bull. In classifica generale comanda Hamilton a quota 321 punti, seguito da Bottas a 245, Leclerc 215 e Verstappen 212, fermo a 194 Vettel. Prossimo appuntamento in Giappone il 13 ottobre. Prossimo appuntamento in Giappone il 13 ottobre.